Salve ragazzi! Allora, oggi parliamo di Boccaccio. Biografia, perché solo di questo ci occupiamo oggi. Boccaccio è definito la terza corona del 300, dopo Dante Petrarca, il terzo grande scrittore del 300 italiano, per questioni ovviamente cronologiche. Prima di tutto orientiamoci un attimo nella cronologia di Boccaccio, nel tempo di Boccaccio. Sappiamo che nasce nel 1313, come vedremo, sappiamo che prima, nel 1309, è cominciata la cattività vignonese della Chiesa, no? Abbiamo visto. Sappiamo che nel 21 è morto Dante e che nel 37 c'è la guerra dei cent'anni. Nel 48 l'evento fondamentale della vita di Boccaccio, quello più importante di tutti, cioè la peste, la peste di Firenze, grazie alla quale, in seguito alla quale, Boccaccio produrrà il Decameron. Io ho usato una cronologia leggermente diversa per datare il Decameron, l'ho datato al 51 perché due sono le ipotesi di datazione, ma non ha importanza questo. Questa è 41, 48, 53, ma va bene lo stesso. Sappiamo dopo che, immediatamente dopo, Boccaccio inizia evidentemente i suoi rapporti primi epistolari, poi reali evidentemente con Petrarca, e che in seguito, evidentemente, alla conoscenza di Petrarca, Boccaccio abbraccia effettivamente l'umanesimo e si fa chierico come è stato Petrarca. Sappiamo che nel 65 Boccaccio tornerà nel suo paese d'origine che è Certaldo, nel 74 muore Petrarca, l'anno dopo muore lui. L'infanzia Giovanni Boccaccio la vive praticamente tra Certaldo e Firenze. Certaldo è un piccolissimo paese in Val d'Elsa, molto bello, nasce Boccaccio nel 1313. Il padre si chiama Boccaccio di Chielino, è un mercante. Giovanni è figlio illegittimo di Boccaccio e di una donna di condizione inferiore rispetto al padre, che è un mercante, un ricco mercante, e che riesce addirittura a introdurlo evidentemente in scuole, anche se non eccezionalmente grandi, ma insomma in scuole significative in cui Boccaccio comincia evidentemente a imparare i rudimenti del latino, delle arti liberali, e comincia a conoscere la Divina Commedia, che per lui resterà fino alla fine un altro caposaldo proprio della sua cultura personale. Ben presto, nel 1327, il padre porterà il giovane Giovanni con sé a Napoli. Giovanni parte per così dire per Napoli per fare uno stage, per dirlo alla maniera vostra, con il padre. Il padre è un mercante ed è in realtà un corrispondente della Banca dei Bardi, che è la banca più importante evidentemente del tempo, presso la corte di Napoli, che è la corte di Roberto d'Angio, del re Angioino Roberto. In realtà Boccaccio padre vorrebbe che il figlio imparasse il mestiere, imparasse, diciamo, i trucchi e tutto quello che è, per cui in realtà se lo porta evidentemente. Il punto però è che il ragazzo che è giovane e che in fondo è interessato relativamente alla mercatura, coglie l'occasione di far parte di questa corte straordinariamente ricca, bella, gradevole evidentemente, soprattutto di una corte regale evidentemente, per trascorrere la maggior parte del proprio tempo tra svaghi, spensieratezze e in fondo per scrivere, perché, come dire, la sua iniziazione letteraria Boccaccio l'ha proprio a Napoli. E adesso vedremo. Intanto Roberto d'Angio, il re ispiratore di questa corte straordinaria, è un vero e proprio mecenate, è un re arrivato a Napoli evidentemente, è diventato re nel 1309, fino al 43, rimane re, conosce Petrarca, si oppone a Enrico VII, l'imperatore tedesco che viene alla conquista di Napoli, chiamato da Dante evidentemente, per portare finalmente in Italia il controllo dell'impero tedesco evidentemente sugli italiani. Roberto d'Angio incorona Petrarca, poeta laureato evidentemente, Petrarca lo ricorderà fino alla fine, in sostanza questo grande mecenato e questo grande politico evidentemente, ma in seguito alla scomparsa di re Roberto la sua grande corte si dispa e praticamente si dispa in buona parte potremmo dire pure la cultura napoletana evidentemente di quegli anni. Di conseguenza evidentemente Boccaccio, vedremo che in realtà già sta a Napoli, già sta a Firenze. Cosa fa Napoli Boccaccio? A parte che scrivere, come vedremo. Boccaccio è impiegato presso la filiale napoletana del Banco dei Bardi, che è un potentissimo istituto di credito fiorentino, i cui fondi sono impegnati anche presso molti sovrani europei, tra cui appunto Napoli. Ci sono filiali della Banca dei Bardi dappertutto in Europa, ci sono filiali dappertutto anche a Napoli. E come ogni bravo poeta stilnovista, teniamo presente che Boccaccio si avvicina allo stilnovismo a Napoli proprio grazie a Cino da Pistoia, che è un altro dei poeti stilnovisti di quel tempo evidentemente, Boccaccio trasfigura l'amata Maria d'Aquino, che in realtà è figlia legittima di re Roberto evidentemente, in questa Madonna Fiammetta, che è un personaggio strano, un personaggio che ritornerà più volte evidentemente nella carriera di Boccaccio, prima di tutto in un'operetta più tarda, che è l'Eleggia di Madonna Fiammetta, ispirata come al solito ai classici evidentemente, e poi nel Decameron, dove Fiammetta sarà una delle narratrici, diciamo, delle cento novelle. La relazione tra i due giovani comunque dura sostanzialmente sino al 1340, finché appunto Boccaccio resta a Napoli. Cosa scrive a Napoli Boccaccio? Le opere del periodo napoletano sono sostanzialmente queste, Caccia di Diana, Filocolo, Filostrato e Teseida. Si tratta di operette in cui Boccaccio unisce in maniera, devo dire, anche abbastanza sapiente per uno così giovane, evidentemente, sia la conoscenza anche molto approfondita della letteratura del suo tempo, poemetti mitologici, abbiamo visto addirittura ciclo bretone evidentemente in certi casi, con una conoscenza molto profonda dell'antichità e dei miti dell'antichità, soprattutto di tutto ciò che riguarda il mondo della letteratura, evidentemente, del mondo dell'antichità. Sono però sempre opere, evidentemente, diciamo, di consumo, opere legate alla corte, servono per una forma di seduzione, per essere cortese, evidentemente, cortigiano in un certo senso, in un ambito pienamente, appunto, cortigiano, per capirci. Servono ad esibire erudizione, ma sono in realtà anche molto, molto godibili. Nel 1343 la Banca dei Bardi però fallisce, e fallisce perché i crediti che Edoardo III d'Inghilterra non restituisce, avendo combattuto e perso la guerra dei cent'anni, evidentemente, sono sostanzialmente molto grossi. Boccaccio, quindi, è costretto, in seguito alla chiusura, al fallimento della banca, alla chiusura della filiale, a tornare a Firenze. Ha una certa fama letteraria, già, ma questo non gli impedisce di avere problemi economici e quindi Giovanni è costretto, evidentemente, a migrare, cercare, tra varie corti, Ravenna, Forlì, evidentemente, appunto, di incarichi pubblici. A Firenze Boccaccio scriverà, invece, la commedia delle ninfe fiorentine, l'amorosa visione, che è un poema allegorico alla maniera di Petrarca, proprio, tipo i trionfi, per capirci, l'Eleggia di Madonna Fiammetta, di cui parlavamo prima, l'Infale Fiesolano, poi la grande opera, il capolavoro, il Decameron, di cui però parleremo in un'altra occasione bene. La funzione è sempre allegorica, finché nel 48 arriva la grande peste, la peste del 300. La peste, sappiamo bene che si è diffusa in tutta Europa in maniera spaventosa, dall'est verso ovest, evidentemente, da Costantinopoli all'occidente. Sappiamo che l'hanno portata le navi genovesi, sappiamo, evidentemente, che la peste ha farciliato la bellezza di un terzo della popolazione europea, sappiamo che si è diffusa da sud a nord, evidentemente, in Europa, ha travolto l'Italia intera, anche Firenze è stata colpitissima, non colpita, ma colpitissima, sappiamo che è stata una vera e propria falcidia, un disastro, un disastro evidentemente con conseguenze enormi sia sulla società, perché ha dissolto completamente i legami anche familiari, evidentemente, che c'erano tra le persone, sia un disastro dal punto di vista economico, perché praticamente ha ridotto il numero dei lavoranti, per capirci. E' proprio a partire dalla peste che dal 48 al 51, o 53, scusate, Boccaccio, si occupa di scriverne. E la peste è un punto di riferimento essenziale, è proprio la cornice del Decameron. A causa della peste di Firenze, evidentemente, di quegli anni, dieci giovani fiorentini decidono di trasferirsi in campagna, decidono cioè di passare dieci giorni per sfuggire al contagio che sta distruggendo la città, evidentemente, in campagna. E in dieci giorni questi, in sostanza, trascorrono il loro tempo novellando di ciò che dovrebbe essere una società, un mondo, in qualche modo, raccontando evidentemente i casi della realtà, i casi, evidentemente, del mondo, qualche volta addirittura evidendoci, in realtà. Lo scopo di questo romanzo, lo scopo del Decameron, è in realtà appunto la costruzione, in un certo senso, di un mondo in cui, come dire, di fronte al disastro della peste, il buono si possa recuperare, e si possa recuperare, evidentemente, attraverso proprio un'opera letteraria, un'opera altissimamente letteraria, quale è quella della narrazione, evidentemente. I problemi continuano, in realtà, però, immediatamente dopo il Decameron, avviene, diciamo, l'incontro con Petrarca. Petrarca di Petrarca, Boccaccio ha sentito ampiamente parlare, ha letto tutto, ovviamente, ha scritto anche delle composizioni celebrative, lo incontrerà solo nel 50, però, in occasione del Giubileo, quando Petrarca verrà in Italia, evidentemente, a Roma per il Giubileo. A seguito di questi rapporti, Boccaccio si avvicinerà sempre di più all'umanesimo, fino a diventarne proprio un punto di riferimento per la generazione successiva, sebbene, evidentemente, i suoi più cari amici siano però legati a Boccaccio, più per, diciamo, la scrittura narrativa, che non, evidentemente, per la poesia. Fino a 65, Boccaccio, talvolta insieme a Petrarca, ha i carichi pubblici del Comune di Firenze, ma poi, in seguito, gli ultimi anni, Boccaccio li passerà nella solitudine di Certaldo, scrivendo opere sia in latino che in volgare, dedicandosi poi agli amati studi di filologia e al trattatello in laude di Dante, che è un testo molto importante proprio sulla Divina Commedia. L'impegno culturale fece di Boccaccio, evidentemente, proprio un riferimento assoluto per gli umanisti del suo tempo, che lui raccolse, evidentemente, appunto, presso la chiesa di Santo Spirito a Firenze, che è rappresentata nella fotografia. Boccaccio muore il 21 dicembre del 1375, non a Firenze, ma a Certaldo, pianto, appunto, da discepoli e amici come Franco Sacchetti, che sarà autore di Cento Novelle, si chiama così l'opera, diversa dal Decameron, certamente di una godibilità e di una capacità narrativa, a mio parere, inferiore, ma comunque interessante, da Coluccio Salutati. Invece è un filosofo, un filosofo neoplatonico, sepolto, è Boccaccio, e vedete l'immagine della tomba, nella chiesa dei santi, Jacopo e Filippo, sempre accertati. Grazie.